il ti fa filmato capiglio ragazzi buonasera salutiamo christian di pescamore saluta christian antonio grande christian come va questa cannetta toni hai visto che l'abbiamo inaugurata urinello metalloid il prossimo acquisto questo prossimo acquisto sono contento canna slide 12 libre carmelino è pronto bello bello vai antoniuccio vai saluto agli amici di pescamore hai detto padre di aprire il partito dopo ma non c'eravano la vuoi scoppiare vai vai si vedono pure le mangiate delle panute toni perché no no nel senso che la vedi grossa però è non vuole molla vabbè non c'è un cuore vediamo a toni era un pochettino giù di morale però gli abbiamo fatto provare canna fai più bello e vabbè sì c'è il tempo non è bellissimo un vento non tanto ancora deve essere detto amonui a mare ora tiriamola a destra di questo vento io mamma mia che c'è vai vai caccia su chumbo caccia è grossa grossa vai 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 Grazie a tutti.